Grazie, grazie. È venuto solo a salutare la mamma, niente di più e niente di meno. La mamma ha chiesto solo che tipo era, che faceva, perché non sapeva nanti chi era e cosa faceva. No, sapeva chi era, perché giustamente l'ha detto dai libri e cose, però l'ha voluto mandare alla mamma più o meno quello che era. Questa madre che le ha detto? Che ha commentato? No, era un tipo normale. Mi faccio un esempio, che cosa ha chiesto? E te l'ho detto. Da quanti anni, quando è diventato prete, se è stato direttamente a Casal oppure è stato in un'altra parte e poi è tornato a Casal, il periodo è più o meno che lui è stato prete. E mi ha fatto piacere questa visita. Sì, sì, è normale. Che significato ha per voi? È sempre buono quando vengono qualcuno che viene qua nel ricordo di Peppe. E lui ci fa sempre piacere quando qualcuno viene. Ma fa piacere per la madre. È più bravo, perché mia madre... E' un montone insomma. Sì, sì. E gli fa piacere che vengono a onorare la mamma di Peppe. Anorata di Peppe.